Gli utenti che si connettono per guardare video sul mio canale sono sostanzialmente di due tipi. Ci sono persone che scattano fotografie con una macchina fotografica e ci sono persone che scattano fotografie con uno smartphone come potrebbe essere un iPhone 15 Pro. Tutte queste persone hanno una cosa in comune, si sono domandate almeno una volta nella vita come faccio per realizzare delle fotografie migliori e siamo qui proprio per scoprirlo insieme. Ciao a tutti amici bentornati sul mio canale, io sono Cesare e come sapete mi occupo di fotografia e ogni tanto anche di video. Oggi sono qui per svelarvi quali sono i 5 motivi per cui le vostre fotografie potrebbero non essere soddisfacenti. Soddisfacenti per voi che le avete fatte e soddisfacenti per un eventuale fruitore, per qualcuno che andrà a guardare le vostre foto. Prima di partire con il nostro elenco vi ricordo se non l'avete già fatto e siete in tanti che non l'avete ancora fatto di iscrivervi al mio canale cliccando il bottone qui sotto. Dalle statistiche che io posso fruire in qualsiasi momento vedo a lettere molto chiare che solamente il 40% di chi segue i miei contenuti è iscritto, per cui c'è un buon 60% che non l'ha ancora fatto. Aspetto i vostri pollici. Vi invito anche a guardare questo video fino alla fine perché ho lasciato per ultimo uno dei motivi più importanti per cui le vostre fotografie potrebbero non essere soddisfacenti. Andiamo a incominciare. Il primo motivo per cui le fotografie non piacciono a voi per primi e ai vostri osservatori quando gliele mostrate è l'illuminazione. Un'illuminazione sbagliata può completamente rovinare la vostra foto o esaltarla se è per quello, ma dipende dal tipo di fotografia e da qual è la vostra intenzione. Ma non vi chiedo di credere a me, adesso ve lo dimostro. Ok come potete vedere ho spento la mia luce principale e ho acceso le luci della stanza perché questo studio ha un'illuminazione sua. Lasciate perdere le lucette colorate sullo sfondo, quelle le ho tenute giusto per dare un pochino di atmosfera, però vi rendete conto di come la mia luce principale regalava una sensazione molto migliore a questa ripresa che altrimenti se fosse sempre così sarebbe abbastanza spoglia e un po' bruttina. Ma torniamo ad accendere la nostra luce principale in maniera tale che possiate rendervi conto del prima e del dopo. Ovviamente io qui sono nel mio studio, ho messo un po' di cura nel posizionare le luci, ho messo tanta cura nella selezione delle luci e dei modificatori. Se andate a ritroso sul mio canale a guardare video più vecchi vi renderete conto di come le luci non sono sempre state così. Una volta erano più grezze, più grossolane, quando avevo appena iniziato avevo meno luci, avevo meno modificatori, avevo una diffusione diversa. Ho messo della cura nel migliorare l'illuminazione dei miei video perché ci tengo tanto a voi e voglio regalarvi un'esperienza di fruizione quanto più gradevole possibile e anche perché mi piace tanto e mi sono divertito da matti, ok? Lo ammetto. Sicuramente esistono tanti tipi diversi di illuminazione ed esiste un tipo di illuminazione più adatto per la maggior parte delle scene. È vero anche che molte scene hanno più di un tipo di illuminazione che può essere adatto. Per esempio un ritratto si può fare con una luce a 30 gradi come quella che sto usando io, ma si può fare anche con una luce frontale, una luce a farfalla, una luce sopraelevata, una luce a 45 gradi. Ecco, un ritratto con una retroilluminazione è una cosa che si vede un po' meno spesso ed è un caso un po' particolare, ma non è detto che sia sbagliato. Una cosa che è quasi sempre sbagliata però è questa. Questa è quella che chiamiamo una luce dal basso oppure una luce horror. Questo è un tipo di illuminazione che è quasi sempre sbagliato perché di solito è sgradevole e innaturale. Per questo motivo è utilizzato nella filmografia dell'orrore perché una luce che proviene dal basso ci risulta innaturale. Noi siamo abituati a percepire la luce del sole, quindi una luce che proviene dall'alto in questa maniera, in questo modo vedete che è già più gradevole rispetto a questa. Del tipo di illuminazione e di come sfruttarla al meglio ci sarebbe da parlare per ore, per cui vi chiedo se questo argomento vi interessa di farmelo sapere in un commento così che io possa indirizzare i miei contenuti verso qualcosa che attira maggiormente la vostra curiosità. Passiamo al secondo motivo per cui le nostre fotografie potrebbero non rendere bene ed è la scelta dell'ottica. Ora quando noi utilizziamo un device come iPhone 15 Pro ma ormai pressoché qualsiasi telefono cellulare abbiamo la possibilità di scegliere più di un'ottica quindi capite bene che questo è un discorso assolutamente attuale perché se è vero che abbiamo la scelta delle ottiche sulle fotocamere professionali ormai ce l'abbiamo anche sugli smartphone. Che cosa significa la scelta dell'ottica? Adesso vi faccio vedere. Entriamo nel mio smartphone semplicemente per comodità perché posso fare lo screencast e farvi vedere mi viene molto più semplice. Molto bene eccoci qui all'interno del mio smartphone e adesso vi faccio vedere che cosa succede se noi andiamo a cambiare ottica. Come potete vedere qui abbiamo a disposizione il mio setup. Oggi sto registrando con la Canon EOS M50 una macchina che tutto sommato continua a piacermi. Stiamo registrando come sempre in 4k. In questo momento sul mio iPhone stiamo utilizzando la camera da 1x ma vediamo che cosa succede se andiamo a utilizzare il 2x. Vedete che abbiamo zoomato in avanti. Uno zoom non digitale ma sostanzialmente ottico perché stiamo utilizzando la seconda fotocamera del mio telefono. Adesso andiamo a utilizzare il 3x e vedete che nuovamente abbiamo cambiato camera. Ora per uno scatto di questo tipo non c'è un giusto o uno sbagliato perché io posso usare sia la camera 1x per fare una cosa di questo tipo che può essere gradevole ma posso anche utilizzare il 2x per andare a zoomare sulla mia camera e posso usare il 3x per andare a fare un dettaglio. Queste sono tre composizioni parimenti valide. È vero anche però che esistono delle regole ben precise che codificano come queste ottiche si possono utilizzare nei nostri scatti e voglio farvi un esempio in particolare che mi è molto caro. Perfetto siamo di muovo all'interno del mio telefono e stiamo zoomando sull'orologio al mio polso. Adesso guardate che cosa succede se io vado a zoomare da molto vicino utilizzando la fotocamera da 1x. Vedete quello che succede è che l'orologio diventa così grande che si mangia tutto il mio polso. È sgradevole questo effetto non è bello vedere il quadrante che arriva al limitare del polso e infatti io vi assicuro che questo non è l'effetto che percepisco quando guardo l'orologio al mio polso. Andiamo indietro e zoomiamo avanti. Vedete che adesso l'orologio non si mangia più l'intero polso. Andiamo ancora più indietro e zoomiamo ancora più avanti e vedete che adesso abbiamo un po' di polso sopra e un po' di polso sotto all'orologio. Vi rendete conto di come è completamente diverso l'effetto? Così è sgraziato e gigante mentre così assume la sua corretta proporzione. Questo è solamente uno dei tanti esempi perché vale anche per i selfie banalmente. Nel momento in cui noi ci facciamo un selfie non stiamo facendo sempre la scelta migliore perché il selfie di solito si fa con una fotocamera con un angolo intermedio. Di solito è un grandangolo. Ora il grandangolo non è famoso per esaltare i nostri lineamenti anzi direi proprio il contrario. La cosa migliore che potremmo fare per esaltare i nostri lineamenti è utilizzare il 3x ma per fare questo dovremo stare lontano e quindi dovremo farci fare la foto da qualcun altro. Ecco che quindi la maggior parte di noi si fa semplicemente un selfie così come viene. Questo ovviamente è solo un esempio perché non possiamo allungarci il braccio a meno di non usare un selfie stick e comunque avremo difficoltà a girare la camera e scattare senza vedere cosa inquadriamo. Però vi fa capire molto bene come molte delle foto che facciamo ogni giorno non sono pensate per avere la resa corretta a seconda dell'ottica che andiamo a selezionare. Uno studio approfondito sull'ottica giusta per ogni tipo di fotografia è sicuramente una tipologia di video che potrei mettere in cantiere in futuro per cui vi chiedo di farmi sapere in un commento se da cosa vi può interessare. Procediamo spediti con il terzo motivo per cui le vostre fotografie potrebbero stare venendo male e potrebbero non essere appaganti per voi che le avete fatte e per i vostri osservatori. Abbiamo parlato della scelta dell'ottica adesso andremo a parlare della scelta della fotocamera. Lo so che sembra banale perché ormai le fotocamere sono molto simili tra di loro e con tutte quante si riesce a portare a casa il risultato. Eppure esistono delle fotocamere con cui si può fare quasi qualsiasi cosa e esistono delle altre fotocamere con cui si fa fatica. Vi faccio un paio di esempi. Se io stessi fotografando una competizione sportiva avrei bisogno di una fotocamera dedicata al mondo dello sport perché il sistema di messa a fuoco di una fotocamera fatta apposta per catturare movimenti rapidi sarà adeguato a quel contesto e mi permetterà di catturare l'azione come io la voglio. Avrà la versatilità per permettermi di catturare quella fotografia in quel contesto difficile con un movimento molto rapido. Ovviamente è difficile farlo a mano quindi andare a mettere a fuoco manualmente. Una volta si faceva quindi non è impossibile e si può fare anche oggi. Però molti dei fotografi di oggi non sono capaci di farlo e attenzione mi ci metto dentro anch'io. Se mi date in mano una fotocamera a pellicola e mi dite di mettere a fuoco a mano ne faccio giusta una su 36 ma proprio se sono in giornata buona. Quindi non sto assolutamente dicendo che sono più bravo degli altri anzi. Quello però che vi sto dicendo è che esistono delle fotocamere che ci aiutano quando non siamo capaci di fare qualcosa. Se stiamo utilizzando una fotocamera molto performante pensata per movimenti molto rapidi e vi faccio l'esempio della Canon EOS R7 per esempio che è una fotocamera un po' pensata per la V-Fauna un po' pensata per lo sport. In ogni caso ha un sistema di messa a fuoco fatto apposta per sopperire alle mancanze di un operatore che non riesce a mettere a fuoco degli oggetti o delle persone o delle cose o degli animali che si muovono molto velocemente. La macchina ci pensa per noi. Ecco però che se stiamo utilizzando una macchina lenta e di nuovo vi faccio un esempio la Canon EOS R che a me piace è una macchina che uso. La uso per fare cose ferme però. L'ho utilizzata ieri per esempio per fare fotografia di paesaggio e fotografia di viaggio. Non la userei mai per fotografare dello sport o per fare avifauna perché si può fare ma fai una fatica maledetta. Ecco che un fotografo esperto potrebbe riuscirci lo stesso ma un dilettante farebbe molta molta fatica. Quindi la scelta della fotocamera può essere cruciale per la corretta cattura delle immagini che ci interessano. Pensiamo bene a che tipo di foto stiamo facendo. Se è una fotografia con scarsa illuminazione o con cose molto rapide che succedono potremmo aver bisogno di un mezzo fotografico più performante. Il motivo per cui le nostre fotografie non vengono bene, vengono troppo buie, vengono mosse, vengono fuori fuoco potrebbe dipendere proprio dal corpo macchina che non è adeguato a quello che stiamo facendo e quindi potrebbe non essere tutta colpa nostra. Siamo in dirittura d'arrivo e affrontiamo il quarto motivo per cui le nostre fotografie potrebbero uscire molto male ed è la composizione. La composizione significa molto banalmente la disposizione dei nostri soggetti nello spazio del frame che abbiamo a disposizione. Come potete vedere in questo momento voi state guardando una composizione pressoché simmetrica perché io mi piazzo qui al centro e parlo con voi in maniera tale che gesticolo con le mani e quindi avete una composizione simmetrica. È una scelta ben precisa la mia. Una composizione con la regola dei terzi mi vorrebbe posizionato in questa posizione ma sarebbe abbastanza strano per l'osservatore avere tutto questo spazio perennemente inutilizzato e avere la mia mano sinistra che ogni tanto esce dall'inquadratura. Quindi la mia è una composizione assolutamente ragionata. Disporre gli oggetti nella maniera più accattivante all'interno del fotogramma è un'arte alla portata di tutti ma bisogna allenarla perché nessuno nasce imparato. Si può nascere con un estro particolare con un occhio particolare ma anche lì è meglio studiare e faccio la mia colpa io per primo. Io vi posso dire che quando ho iniziato a fotografare non conoscevo bene le regole, non scattavo seguendo le regole e molte delle mie foto facevano schifo, infatti le buttavo via. Molte delle mie foto invece funzionavano e proprio nel cercare di capire che cosa differenziava una foto venuta bene da una foto venuta male spesso e volentieri mi rendevo conto anche andando man mano ad approfondire quali sono le regole della fotografia che le mie foto che funzionavano erano quelle dove avevo inconsciamente rispettato le regole della composizione. In generale parlando di composizione posso dirvi una cosa che mi è stata insegnata da uno dei più grandi maestri che ho avuto che non nomino qui perché non sono sicuro che gradirebbe. Posso però riportarvi integralmente le sue parole. Mi disse, disse a tutta la classe perché era una classe quindi non lo disse a me, lo disse a tutti ma è valido ugualmente per tutti quanti. Disse ragazzi quando fate una cosa fate sì che sia evidente che l'avete fatto apposta per cui io mi colloco in mezzo al fotogramma, non mi colloco qui un pelino spostato, questo non è neanche un terzo, un terzo sarebbe qua, la regola dei terzi sarebbe qua. Io mi colloco non qui che sembra che ho sbagliato e sono lievemente a lato, mi colloco qui, se la sedia me lo permette, nel mezzo in maniera tale che sia evidente la mia scelta. Io metto una luce principale in modo tale che sia evidente che quella è la luce principale, quindi luce da una parte ombra dall'altra. Non faccio vie di mezzo che lasciano spazio ai dubbi. Nella composizione vale esattamente la stessa cosa. Io difficilmente mi andrei a mettere qui perché avrebbe poco senso. È una cosa che può sembrare artistica ma dipende anche dal contesto e voi non capireste come mai mi sono messo qui e ve lo dovrei spiegare. E quindi ecco che ritorno al mio posto. Avete capito comunque che cosa voglio dire. Facciamo delle scelte forti nella nostra composizione ma che siano ragionate e che siano assolutamente sostenibili in corso di dibattito. Se qualcuno ci dovesse chiedere perché avete fatto un orizzonte storto non c'è un valido motivo la maggior parte delle volte e quindi non lo facciamo. Non voglio tarparvi le ali dicendovi di seguire pedissequamente le regole però quando le infrangete che ci sia sempre una giustificazione valida. Molto bene ma siamo arrivati all'ultimo quinto motivo. Vi avevo promesso che sarebbe stato uno dei più importanti e infatti è proprio così. Il soggetto sbagliato. Ora il soggetto sbagliato ovviamente apre una parentesi infinita perché potremmo parlare del fatto che ovviamente se io fotografo una persona che ha esperienza di posa le foto verranno meglio piuttosto che quando fotografiamo una persona che ha zero esperienza di posa. Se una persona mi è capitato spesso e volentieri di lavorare con ragazze per esempio che avevano già esperienza di sala posa, di fotografia, sapevano già come mettersi, sapevano già qual era il loro profilo migliore, sapevano già le pose da assumere per venire meglio, per esaltare alla figura. Una persona che non ha nessuna cognizione di questi aspetti chiaramente sottoperforma perché non sa come mettersi e quindi molte foto vanno buttate, molto tempo va buttato, poi non è buttato ma è investito, per cercare di capire queste cose, per cercare di capire qual è il suo profilo migliore, qual è la luce migliore per esaltare i suoi tratti, i suoi lineamenti, per tirarle fuori un po' di sicurezza perché i primi scatti magari si vede che la persona è nervosa. Quindi ovviamente scegliere di lavorare con un soggetto che sappia il fatto suo, che abbia padronanza di quello che si sta facendo può fare tutta la differenza del mondo ma scegliere il soggetto giusto in questo caso vuol dire anche e soprattutto, perché comunque io do per scontato di avere un pubblico composto prevalentemente da amatori, chi più è voluto chi meno, ma pochi professionisti e correggetemi se sbaglio fatemelo sapere in un commento, io credo che siano pochi i professionisti che mi seguono perché queste cose le sapranno già, credo che siano più amatori che si affacciano a questo mondo e magari semi professionisti e persone che vogliono imparare, quindi benvenga assolutamente tutti benvenuti da quel punto di vista. Però io rivolgendomi a una platea per lo più di amatori, la cosa che mi sento di dirvi è scegliete bene i vostri soggetti e scegliete bene se è il momento di fare una foto oppure no. Mi spiego meglio, mi è capitato spesso in vita mia e quindi sono io il primo, vi porto questa esperienza perché so di cosa parlo, mi è capitato molto spesso di vedere una scena, decidere di scattare una foto, guardarla, non essere convinto, farne altre cento, tornare a casa e buttarle via tutte. E questo perché succede? Perché quello che vedevano i miei occhi non si traduceva correttamente nell'immagine che stavo cercando di catturare. Questo può essere dovuto ai quattro motivi precedenti, quindi io sto cercando di fotografare un qualcosa che non viene per uno dei quattro motivi precedenti, ma può anche essere semplicemente che certe cose non si possano fotografare. Perché è anche possibile che ci troviamo di fronte a una scena che è impossibile da fotografare o è impossibile da fotografare con i mezzi che abbiamo. Vi faccio l'esempio più facile del mondo, ho in mano solamente un iPhone 15 Pro e voglio fotografare la luna. Ragazzi stiamo fritti, non verrà mai, verrà una schifezza, verrà una macchia bianca nel cielo e verrà tutto slavato e non sarà per niente come quelle che vediamo su internet, che vediamo su Instagram tutti i giorni. Io vedo foto della luna meravigliose, ma non sono fatte con questo e quindi se stiamo cercando di fotografare la luna con un iPhone stiamo freschi, stiamo freschi perché non ci riusciremo mai. Ora l'esperienza ci porterà a capire quando una foto è da fare e quando no. Una foto è da fare quando è un bel momento, è una bella scena e sappiamo di poterla catturare correttamente. Se non possiamo catturarla correttamente è inutile che ci proviamo. Cosa vuol dire questo? Che non dovete più provare a fare foto? Assolutamente no. provateci, ma rendetevi conto di quando non è possibile farla in maniera tale che quando vedete la luna e avete solo questo ci provate una volta a fotografarla. Quando vedete che viene una schifezza, la volta dopo che vedete una bella luna e avete di nuovo solo questo, non la rifate di nuovo perché vi ricordate che tanto non viene. Questa regola applicata a tutte le scene che potete trovarvi di fronte in vita vostra vi aiuterà a capire quando è il caso di fare una foto e quando invece no. Vi faccio un altro esempio. Proprio l'altro giorno ero in montagna e ho visto un bellissimo panorama. Mi sarebbe piaciuto immortalarlo, ma dalla posizione in cui mi trovavo avevo alberi e cavi della corrente che mi passavano davanti e rovinavano la scena. Ora io la foto l'ho fatta lo stesso e quindi volendo ho sbagliato, però adesso posso mostrarvela. Quindi vedete che non si butta via niente qui, proprio come con il maiale. Ora poco dopo ho trovato un altro punto di osservazione da cui ho potuto fare la foto in maniera un pochettino migliore. Questo che cosa ci dimostra? Che la prima foto io ho sbagliato a farla perché è una foto da buttare, è rovinata. Magari avrei potuto sistemarla, ma mi sarebbe costata molti minuti di postproduzione per andare a sistemarle e a rimuovere gli elementi indesiderati quando bastava muoversi, spostarsi e io ero in macchina quindi ho fatto un breve tratto e ho trovato un punto migliore. Questo ci deve servire di lezione per ricordarci che se abbiamo uno scatto rovinato è inutile farlo, piuttosto cerchiamo di spostarci e di andare da un'altra parte. Questi sono tutti casi in cui dobbiamo decidere se vale la pena o no fare la nostra foto e ricordatevi, a volte non è necessario scattare una fotografia per godersi un bel momento e per ricordarselo. Questa è una delle cose più importanti, soprattutto se, come detto prima, siamo in ampia misura amatori e lo sono anch'io quando faccio foto per le mie vacanze, per il mio passatempo. Bene amici, a questo punto non mi dilungo oltre, vi lascio come sempre spazio nei commenti per domande, curiosità o esperienze personali. Fatemi sapere se siete incappati in uno, due o tutti questi problemi nel corso della vostra esperienza fotografica, fatemi sapere se utilizzate smartphone o se utilizzate una fotocamera vera. Ci vediamo come sempre nei commenti, vi ricordo di iscrivervi per non perdervi le mie risposte in forma di brevi video verticali ai vostri commenti più interessanti. È stato come sempre un piacere trascorrere la mia serata con voi e io vi do appuntamento al prossimo video. Grazie.